Andrea Conti, quanta soddisfazione. L'Atalanta pareggia con la Juve e tu realizzi anche un gol. Importante e pesante visto il risultato finale di 2-2. Tanta soddisfazione, anche grande emozione. Sono contento per me, per aver sbloccato la partita, ma soprattutto per il risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, un primo tempo molto importante. Poi siamo un po' calotti nella ripresa, però abbiamo comunque di fronte una grandissima squadra, ci può stare. Il pareggio penso che sia un risultato giusto e è un buon punto fondamentale per il nostro obiettivo. Quanto volevate fare il risultato con la Juventus? Che settimana è stata? Volevamo tantissimo perché i punti con la Juve a Bergamo mancavano da tanti anni. Il mister ci teneva particolarmente a questa partita e noi abbiamo fatto il possibile per dargli una gioia, sia a lui ma anche a noi stessi, perché comunque ce lo meritiamo per quello che stiamo facendo. Andrea, l'hai detto, primo tempo una bella Atalanta che ha messo in difficoltà la Juventus, poi nel secondo tempo è venuta fuori la superiorità della Juventus, che però non è riuscita a vincere. Sì, è vero, è sembrato un po' di aver rivisto la partita di Roma, hanno trovato il gol nel secondo tempo dopo pochi minuti, magari ci ha spezzato un po' le gambe, però siamo stati bravi a non mollare, a reagire anche al loro vantaggio e penso che il pareggio sia il risultato più giusto. È un punto importante, pesante, non solo per la classifica, anche a livello di testa, di morale, perché l'Atalanta era attesa da una serie di partite difficili e ne è uscita a testa alta, imbattuta. Sì, è un punto che ci dà sempre più consapevolezza dei nostri mezzi, di quello che possiamo fare, ma è anche un punto che è un po' un'ammazzata per i nostri inseguitrici, perché tutti si aspettavano il nostro calo nel giorno di ritorno, ma noi stiamo dimostrando di esserci e che vogliamo tutti i costi in Europa. Sette gol, dove vuoi arrivare? Mi pongo gli obiettivi un po' per volta, prima erano tre, poi cinque, poi sette, e adesso vado avanti uno per volta e speriamo di continuare così.